Giuseppe Rosi che riparte appunto con un nuovo possesso, gara che si avvia alla sua seconda metà del primo tempo, ancora sullo 0-0, ma c'è, repetti, numero 11, c'è spazio anche per le compagne, continua a tenere il pallone a numero 11 che soltanto ora scarica per la compagna che va a concludere, si tratta di Nicole Delfreo, tre gol all'attivo finora per lei, nulla di fatto e possesso che torna alla San Marino Academy, ma comunque dà l'impressione la numero 11 avversaria delle Napoli di essere davvero forte con finora la conclusione tentata al quarto d'ora che è stata la più pericolosa delle match, molto temibile la calciatrice che finora ha segnato infatti due reti e che probabilmente oggi è una delle calciatrici da osservare con più attenzione perché finora si è mossa molto bene nella zona offensiva, nella zona occupata dalle portiere Asia Scotti e dalla sua difesa, pallone per Bonora, non ci arriva la numero 9, pallone Echera